Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, come state? Spero bene, allora, un nuovo video che è grigio, anche oggi, finalmente, e vai, allora, dunque, finalmente sto riuscendo a registrare altri video, sì, lo so che è da un bel poco che non registro, ma non mi pare, perché ho registrato ieri, quindi oggi sto riregistrando altri video, non è make-up, ma è tanto per parlare un po' con voi, e nulla, mi piace registrare questi video così, chi è che ricci? Aspettatevi, guarda, si sta registrando, si sta registrando, ok, e nel frattempo metto anche se trovo da una parte qui, questo, ok, così controllo, se ho messo il tastierino, dove, tastierino, ho toccato un tasto che mi permette di capire se sto, se mi sta togliendo la registrazione o meno, comunque niente, ragazze, questo era solo per dirvi che sto registrando con un telefonino, semplice, iPhone 7, quindi, nulla, se volete sapere che cosa sto, cosa voglio parlare, vi voglio parlare innanzitutto che, allora, ieri sono andata a Sassari, so che non avete visto nulla di Sassari, ma purtroppo non ho potuto riprendere nulla in taxi, o quasi nulla, se non che a me, perché, se non che a me, vabbè, se non a me, se non a me, perché purtroppo non ho potuto riprendere basta a me, quindi ho voluto solo riprendere a me e così ho fatto, lo so, lo so, il video era muto perché non potevo parlare neanche al telefonino, perché stavo in discussione con mia mamma, non lo so, voi direte, ma adesso che senso ha registrare un video, visto che non puoi parlare, avete ragione, però io ho voluto fare un video vlog e poi aggiornarvi quando tornavo a casa di come era la situazione del, come si dice, aspetta un attimo che mi metto meglio, ok, ce la posso fare, se stiamo arrivando, sì, e vi dicevo, speriamo che riesco a aggiornare le ragazze una volta tornate a casa, così sono tornata a casa, vi fate vedere anche l'outfit col vestito bello bianco, con la mantellina, che poi non la mantella, ma la giacchettina, che vedete là le mie spalle, il vestito è bellissimo, mi piace lavorare, vi ho fatto anche l'outfit appunto, e l'outfit è bellissimo, quindi nulla ragazzi, mi piace molto il fatto che vi ho fatto vedere l'outfit, anche se ho silenziato il patch dove stavo riprendendo per tornare a casa, anche per andare a Sassari, ma il resto non ho potuto riprendere null'altro, se non a me, che mi riprendevo per l'outfit, mi filmavo, mi registravo l'outfit, ho messo anche le birchestocco, sono ridefinite le sopracciglia, l'ho anche detto, scusate, vi ho fatto ballare, ho ballato la telecamera, vabbè, le sopracciglia vi ho rifatto, e poi vi ho anche fatto un semplice scignol, come potete ben vedere, e nulla ragazzi, questo era tutto, perché non sto ferma io, perché non sto ferma, vabbè, e niente, era solo lì, per vedere come sono, com'era il mio status del mio stomaco, non so oggi come sto parlando, prendetemi per così, per come sono, perché mi ho appena preso una cammilla, perché avevo una rama di testa, sperando che non mi torni, metto le corna, perché speriamo che non mi torni, e vabbè, e niente, e quindi speriamo bene, e niente, quindi se questo video appunto vi è piaciuto, io non l'ho detto prima, ma mi dimentico sempre, non perché non voglio polliciare in su, e non voglio commenti, ci mancherebbe proprio, potete pure commentare, fatemi sapere a proposito, subito, quando volete voi, voglio dire anche subito, perché mi piace, mi fa piacere molto, quando voi scrivete i commenti, e il vostro affetto è dolcissimo, un bacio, e niente, scusate se all'inizio sono un po' un bronce, ma non sono abbronciata, ragazze, ci mancherebbe altro, ragazze, e no, è solo così, sì, non mi posso cambiare di carattere, dipende da come sono, ragazze, facciamo perdere, e nulla, quindi, che dire, aspetta che controllo, si sta riregistrando, sì, mi mandano un'ultima grafica, telegram, però, almeno, registra, quindi, nulla, ragazze, questo era tutto, e, vi faccio vedere un po' come gli ho letto, non so che l'avete già visto, ma ve lo faccio rivedere, aspettate un secondo, non sta con la registrazione, perché sennò non fa, aspettate un attimo, scusate, magari è come questo, e il letto, così come lo vedete, e questo, dove stavo registrando io, poco fa, vedete, sì, se vedete che c'è un computer lì, perché sono riuscita finalmente, quasi a prendermi il mio amato, e, come si può dire, non proprio amato, ma ho un Macbook anche io, finalmente, ancora lo devo pagare, però lo sto, lo sto utilizzando tantissimo, e, direi ancora una cosa, è molto buona e mi piace tanto, e, lo bramavo da tempo, ed era ora, finalmente, di utilizzare un computer, come si deve, tra Macbook e Apple, ok, ragazze, e Apple, Poi, questo è, il mio letto, appunto, vabbè, qua c'è la, dove io registro, il mio cavalletto, come potete ben vedere, e, niente, questo è tutto il mio cavalletto, sì, il cavalletto, ciao, il mio letto, vabbè, intanto, il nostro, dove ho messo qui, vabbè, qui, il mio comodino, qui c'è il mio santo, un riferito, che è del padre Pio, vedete, ma non si vede una mazza, vabbè, ok, ciao, e, niente, ragazze mie, belle, già, non so come farvi la foto, quindi, farò una foto, normale, semplice, ma non è facile per niente, mi fischio la foto, nulla, ora, vi rimetto, al mio posto, e, vediamo dopo, anzi, vi sistemo, se mi riesce, da questa parte, allora, ok, vi ritorno in postazione, sempre che non riesco, a fare danni, e, nel frattempo, e, poi, mi si accebbero, che ce l'ho fatta, fino a meno, dopo dei secoli, ok, 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 bene, sì, vi ho messo storte, anche, tra l'altro, vabbè, si vede, speriamo di sì, che si veda, boh, io non so, se si vede o meno, sì, sì, si dovrebbe vedere qualcosa, a un attimo solo, voglio provare a vedere se, stacco un attimo, stacco, ecco qua, ragazzi, ho tolto la custodia, perché, altrimenti, rimane con questa custodia, non lo so perché, ma, ultimamente, se tolgo la custodia, con questa custodia, non si vede, granché bene, quindi, ho voluto, fatemi fare una prova, vedere se si vede bene, sì, ora si vede bene, perfettamente, vabbè, poi, proverò nel montaggio, casomai, vedro di, nel montaggio, nel senso, non taglio niente, se taglio qualcosa, la taglio, la taglio tanto, perché, non mi piace, come ho messo alcuni, transazioni, non transazioni, alcuni, momenti di, noioso, non lo so, vabbè, non mi voglio, spiegare troppo, perché, non saprei come, vabbè, ci siamo capiti, e nulla, non so se lo monto, da computer, o da, cellulare, che li da cellulare, niente, bene, ragazzi, io ve lo ricordo, di nuovo, alla fine del video, iscrivetevi, se si va, attivate la campanella, commentate, e seguitemi su tutti gli altri social, un bacio, ciao, 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 ciao,